La mostra racconta attraverso 129 opere, 43 dipinti e 86 disegni, l'intera vicenda artistica e biografica di Vincent van Gogh, dal momento in cui decide di diventare un artista, così scrive al fratello Theo in una lettera, nell'estate del 1880 fino alla fine di luglio del 1890 quando si suicida accanto a un campo di grano a Auvers-sur-Oise, appena a nord di Parigi. La mostra ricostruisce tutto ciò attraverso una decina di sale, ragionando prima sugli anni olandesi sugli anni della sua formazione, con una presenza considerevole di disegni, che è il linguaggio che caratterizza appunto quegli anni, la scoperta del realismo, il rapporto con la scuola dell'Aia, con alcuni dipinti di riferimento, il rapporto con Jean-François Millet, l'immagine del seminatore che tormenterà, per dire così, Van Gogh per tutta la sua vita, fino ai due anni trascorsi a Nuenen, sempre in Olanda e arrivando ai mangiatori di patate. E poi l'immersione nel colore, sono gli anni dunque francesi che la mostra tratteggia con grande precisione dai due anni trascorsi a Parigi, dal 1886 all'inizio del 1888 e poi finalmente la discesa al sud, la scoperta della luce e del colore in Provenza, prima ad Arles e poi a Saint-Rémy, nell'Istituto di cura per malattie mentali ricostruito in un grande plastico qui in mostra di Saint-Paul de Mosol. E infine, gli ultimi 70 giorni della sua vita, la sala nella quale ci troviamo in questo momento, i grandi campi, i campi con i papaveri, i campi di grano, in questo caso davanti a questa parete un meraviglioso campo di grano rigato di pioggia. È la conclusione dell'esistenza terrena di Van Gogh che ci lascia una bellezza straziata che questa mostra racconta e tratteggia con grande partecipazione.